Dal 22 al 24 settembre l'Università della Calabria ospiterà la 14esima Circles International Conference 2016 Creatività e pensiero critico nell'apprendimento delle lingue e nel ruolo dei centri linguistici d'Ateneo. L'appuntamento biennale promosso dalla Confederazione Europea dei Centri Linguistici nell'Istruzione Superiore ritorna in Italia a distanza di 18 anni. La conferenza organizzata dalla Presidente del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università della Calabria professoressa Carmen Argondiz costituirà un'occasione di incontro e di scambio di portata internazionale per gli addetti ai lavori nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere moderne. Esperti, docenti e studiosi avranno l'opportunità di confrontarsi con esperienze di ricerca e di lavoro maturate nell'ambito dei centri linguistici di tutta Europa per riflettere su come migliorare costantemente l'approccio alle lingue degli studenti universitari e non solo. L'intenso programma della conferenza prevede la partecipazione di oltre 200 esperti del settore provenienti da molti paesi europei così come da università extraeuropee. In una a tre giorni di costruttive e produttive sessioni corredate da dibattiti e tavole rotonde i partecipanti saranno chiamati a condividere i diversi metodi di lavoro, le strategie e i background culturali in un clima di serena e cordiale collaborazione. I partecipanti si confronteranno nello specifico su tematiche quali la creatività nell'apprendimento delle lingue, lingue e tecnologie e nuovi media, valutazione, autovalutazione e certificazione, progetti europei nelle università.